In Migliaia, in piazza Roma, sabato per manifestare contro la violenza sulle donne. Organizzata dal movimento Non Una Di Meno, la manifestazione ha sottolineato il peggioramento della situazione in Italia, dovuta anche alla pandemia. Dall'inizio dell'anno, 109 sono stati femminicidi, una donna viene uccisa ogni tre giorni. Il corteo, che da Piazza della Repubblica è andato fino a Piazza San Giovanni, ha chiesto politiche sociali attive per aiutare le donne.